Noi legnanesi saremo sempre dalla loro parte. Legnano è una città lontana ma che vuole essere amica. La solidarietà non ha confini. Oggi quest'opera è compiuta. Così Giuseppe Calini, promotore dell'iniziativa per la costruzione a Legnano di un monumento in ricordo della tragedia del Vaillant del 9 ottobre 63 e inaugurato stamani 11 maggio in piazza Vittorio Veneto a Legnano. Un muro di calciestruzzo, lo stesso materiale usato per la diga come sfondo, rappresenta il passato, tutto quello che è stato. L'acqua scende delicatamente come il passare del tempo ma da quello sfondo, da quel passato esce e rimane come monito perenne la diga. Sotto la diga i sassi originali del Monte Tocchi, i sassi della Frana, posati dai sopravvissuti qui a Legnano. Questo è un bellissimo esempio di memoria che ora aspetta a tutti noi tramandare di con i sopravvissuti che hanno raggiunto il luogo dell'inaugurazione.